Era un incontro molto importante e devo dire io l'ho colto con positività, con molta costruttività. Così il presidente della regione toscana Eugenio Gianni sull'incontro con il ministro Schillaci che si è concluso a Roma. Diverse le questioni sul tavolo tra cui se e quando arriveranno alla Toscana, le risorse per la sanità garantita ai lavoratori immigrati e se davvero il governo non intenda più rimborsare il payback farmaceutico alle regioni. Ho visto da parte del ministro la consapevolezza che sarebbe stata una profonda ingiustizia vedere l'anno scorso consentire nel bilancio della regione di poter acquisire i crediti che derivano dal payback dei dispositivi sanitari, addirittura l'anno scorso ci furono riconosciute 4 annualità, quindi 390 milioni e quest'anno il nulla. Cerchiamo di trovare una via di mezzo, di far riconoscere almeno due annualità, le 2020 e 2021, quindi con circa 200 milioni andare a chiudere il bilancio della sanità 2023. L'impegno con il ministro è stato quello che si farà carico di poter perorare la causa sul ministero, il cosiddetto MEF, il ministro dell'economia e finanza, il ministero che ha i cordoni della borsa. Quindi in una settimana e dieci giorni vediamo se può essere o riconosciuto con decreto ministeriale questo credito da parte della regione o comunque valutato un credito in questa misura come elemento compensativo per il nostro bilancio. Comunque un incontro costruttivo con un ministro che ha saputo ascoltare e farsi carico di un problema che diventa comune, quello dello Stato e della regione, di poter far quadrare i conti di una sanità d'eccellenza come quella toscana e il ministro l'ha riconosciuto.